Rapina alle 9 di mattina all'ufficio postale della Chiasa Superiore ad Arezzo, in tre con volto travisato da passamontagne armati di una pistola, si sono introdotti all'interno dei locali e si sono fatti consegnare 390 euro. Poi sono scappati a bordo di una Hyundai, immediate le ricerche dei malviventi da parte della centrale operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Arezzo. Poco dopo i militari della stazione di Subbiano hanno intercettato e bloccato la macchina risultata rubata nella giornata di ieri. A bordo tre uomini, un 47enne, un 48enne, un 38enne, tutti disoccupati, pregiudicati, originali della provincia di Napoli. Uno di loro è ritenuto affiliato al clan camorristico di Martino. Nel corso della successiva perquisizione sono state rinvenute e recuperate le somme asportate, i tre passamontagna e una pistola scacciacani, priva del tappo rosso usata per compiere la rapina. I tre arrestati, denunciati anche in stato di libertà per il reato di ricettazione in relazione all'autovettura rubata, sono stati associati alla casa circondariale di Arezzo a disposizione dell'autorità giudiziaria.